Ragazzotti, Hakuna Matata, ben ritrovati dal Valfaro Ciccio Gamer 89, siamo tornati su un nuovo video di Brawl Stars Abbiamo tantissime cose da fare, come potete vedere abbiamo la modalità classificata Oggi la vado a giocare per la prima volta insieme a voi Ma prima di entrare in modalità classificata Permettetemi di presentarvi il mio, il nostro uovo di Pasqua Ebbene sì, questa Pasqua c'è l'uovo di Ciccio Gamer 89 Lo trovate sul sito di Sicily Addict In questo momento lo vedete strano, tranquilli, ecco fatto Regà, ve lo dico già da subito, costa 23 euro e qualche cosa La spedizione in tutta Italia, in tutta Europa Non c'è la sorpresina dentro perché ho voluto tenere basso il costo dell'uovo Dato che un uovo artigianale, 350 grammi Tra cui inclusi 100 grammi di crema, buono da spalmare Lo trovate sul sito di Sicily Addict ragazzi Quindi questa Pasqua L'uovo di Pasqua lo sappiamo quale comprare, dai Allora, andiamocene su Brawl Stars Se voi andate sul negozio dove troviamo tutta la roba Quella gratuita per intenderci Se andiamo tutto a destra, troverete Supporto a un creatore, Ciccio Gamer 89, mi raccomando Allora, innanzitutto, no, io non voglio questo Brawler Ma voglio rancare, voglio rancare Con... dove sei? Patatone bello? Eccolo qua Con il mio Edgar eroe mascherato Ragazzi, subito un bel like Subito un bel commentone Quindi le classificate sono anche randomiche Però non so se con Edgar veramente possa essere Uh, ah, ho capito E io mi prendo... Scegli un Brawl Ah, sì, 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 sì Vedete, è la prima volta che vi ho detto Colpo in canna Mettendo a segno un attacco su un nemico Ricarichi stannamente alcuni colpi Ok Va bene Quindi ogni volta si possono scegliere dei Brawler Questa cosa mi piace Perché Edgar effettivamente non era buono in questa mappa qua E giustamente te lo fanno scegliere il personaggio in base Alla partita Questa cosa mi piace Questa cosa mi piace assai Ok Stiamo... ci stiamo massacrando Questa è una cosa che va bene L'audio non lo sto tenendo altissimo ragazzi Perché non voglio Rompervi troppo Le scatole Esatto Sapete che con lei Io sono bravo, regà, eh Cioè, penso che ormai lo sapete Io, per esempio, quella non l'avrei sicuramente Regalata Tanti danni, regà Ah Che peccato C'è qualcuno da noi che però non è molto capace Regalano le gemme Questa cosa un po' mi triggera, eh Adesso sarà un po' un problemino Ok Oh, regà Io sto facendo una strage Una strage Se Loro riescono a far fuori quel maledetto Esatto Io due comunque l'ho riprese Ah, mamma mia Mamma mia C'hanno sei gemme Brutta storia, eh Brutta storia, però, regà Guardate che bombe che tiro Mamma mia Che bombe che tiro, ragazzi Prendiamoci ste gemme Io penso di meritarmi Tutta la vita questa partita Secondo me, eh Guarda quante gemme, regà Ah, lui ha attivato l'overdrive Io sto cercando di Dargli una mano Regà, io adesso non voglio dire, eh Esatto Oh, non c'è morto ancora E scoppia Mica senza cattivere, dai Io comunque questa partita L'ho meritata troppo Qui ho sbagliato Ammetto Però io ho dato una mano A farli fuori Ora, fatemi andare a me avanti Non vi preoccupate Cogliete A lui lo blocco Lui muore Sicuro 100% Lei pure mi fa danno Vedete? È un altro conto, no? Se mi difendevano anche loro Nella giusta e maniera corretta Ah Prima ranked Vinta, ragazzi Il migliore ciccio che me l'ho 89 Ci può stare Ci può stare Quindi più 125 punti Lo sapete che mi piacciono? Proprio Questa roba qua Mi piace Poi ho capito che Nello scorso video Siamo stati molto fortunati Cioè, sono stato molto fortunato A droppare roba interessante Quindi siamo in footbrawl Footbrawl Ci può stare In realtà Il pick Aggressione Ah, non mi li fa Ah Questa cosa io l'adoro Questa cosa io l'adoro Perché vedete Non me li fa prendere Quindi io posso prendere Questa roba qua Ah Però mi sa che ci serve Qualcuno da lontano Sbaglio Mi riprendo Bea Dai Mi riprendo Bea Perché Se mi prendevo Bull Che era molto forte Chi sparava da lontano Dato che noi abbiamo Degli ottimi Eh Ma tutte e due fanno La stessa cosa Ragazzi Ho un brutto presentimento Su questa qua Ho un brutto presentimento Ragazzi Veramente brutto Eh Vedete che loro Non possono fare niente Sì ci sta Speriamo di vincerla Dai Sono io che Probabilmente Non ho capito Assolutamente niente De Minchia rega Lui è fortissimo Ragazzi Io sono contentissimo Di aver comprato Quel Quei brule Perché veramente È qualcosa Di Io Sto senza parole Vi posso dire la verità Sto senza Senza parole Tra l'altro Voglio vedere una cosa Se cambiano i brawler Che posso selezionare Da momento a momento Quindi siamo sempre In arraffagemme Però non vorrei Prendere sempre Shelly Ah Loro droppano A cannone Perché mi sa che Questi sono tutti Bloccati Quindi io posso Scegliere sempre Tra i miei Mi prende un po' Di dynamite Che secondo me Ci sta Oddio però Secondo me Edgar è forte Dai Giusto per cambiare Va Speriamo di non aver Fatto una cavolata Mi spiegate la cosa Di questi Perché Non li posso Ottenere Me lo dite Per favore Sono molto Curioso Non ho ben capito Ma tanto so Che me lo direte voi Dunque ho visto E' stata lasciata Un sacco di mi piace State supportando Tantissimo Io spero che Utilizzerete anche Il codice Creatore Ciccio Che per l'89 Voi sapete che io In realtà Gioco A questo gioco Da Un bel po' Di tempo Lo dovreste sapere Mamma mia Scusatemi Se c'ho Whatsapp web Ragazzi Scusatemi Mamma mia Che sono Veramente Incredibile Dovrei aver Chiuso tutto Ragazzi Scusatemi Ancora Non l'ho fatto Apposta Ok Con grande Calma Si fa tutto Visti ragazzi Sono Io Posso dire una cosa Dynamike Comunque lo so usare Cioè Non è che Non è che Non lo so usare Dynamike Che faccio Dei bei dannoni Ok Peccato che Ok Non c'ha senso Perché hanno ucciso me Che ero quello Che ho Ciao bello Ciao bello Ok Io comunque Le 6 le ho riprese Ce la dovremmo aver fatta Va Mo so cavoli Dei nemici Però Vai vai ragazzi Non possono fare più niente Se ci rincorrono È fatta per loro Cioè Cioè regà Non campi più così Mamma mia Distrutto Obliterato Obliterato Regà Cioè proprio Vabbè Per il momento Diciamo che sono Abbastanza semplici Le partite Spero che vi piacciano Le partite classificate Ma secondo me Sì Penso che siano il fulcro Di questo nuovo aggiornamento No Quindi Rapina Secondo me Rapina Ah vedi Scegli un brawler Non ho capito perché Vado sempre su sta roba qua Non l'ho capito O sono i miei selezionati Tramite il livello Ragazzi Non l'ho capito La mappa è carina Ho voluto prendere Edgar Giusto per Giusto per Cambiare un pochettino Vediamo un po Edgar è forte qua Secondo me Magari subisco un attimo Vediamo Speriamo di non aver fatto Una Una stupitaggine Se così si può dire Ok Mi stanno un po Martoriando Ok Non lo so Se ho fatto effettivamente Una buona cosa Ma ne riparleremo Tra poco Non vi preoccupate Io in realtà Devo semplicemente Caricare La mia ulti Se io carico La mia ulti Lasciamo così Va Non lo so Fatemi Fatemi capire Ok Questo può essere Decisamente un problema Ok Ok E io me ne posso Andare Eh no Forse la scelta Di questo Di questo qua Non è stata così Corretta Anche perché I miei non è che Stanno facendo tanto Allora Ammetto che qui Purtroppo Oltre la mia scelta Che è completamente Sbagliata Dico la verità Completamente Sbagliata Cioè faccio danno Ma non Così tanto Perché purtroppo Stiamo molto Molto Indietro Ok Io Eh Sono morto Con la ultima Va bene La prima classificata Persa Ci sta Non dovevo Giocare Questo Pryer qua Perché Per carità È forte Ma vedete che C'è sta Va bene Ci sta Dai questa Mi prendo Tutte Le responsabilità Perché secondo me Edgar Non va bene In partito Se trovi un team Un po' così Così In squadra Intendo Perché Lui Mi devo ricordare Che Magari se prendevo Io dynamite Ma che ne so K.O Ok K.O Noi ce l'abbiamo Comunque la roba buona No Vedi che io posso A mo me li fa scegliere tutti Scegli il brawler Non Non ho capito Non ho capito Regà Non ho capito Mi dispiace Ma io non capisco Ve lo posso dire Che non lo capisco Non so di che cosa Stiamo parlando Perché mi li blocca Vabbè me lo direte voi Dai inutile che me ce sto A scervella Fin troppo No Cioè secondo me Ma va finì che Edgar Qui per esempio Con queste modalità Impari anche un pochettino Di più A piccare No perché sei Praticamente costretto A fare I pic Corretti No quindi in realtà Ci sta anche Ci sta anche Dynamite Messo lì Dobbiamo stare attenti A quel dynamite Che Ok Fatto Perfetto Io volevo andare Da una mano Assolutamente Al mio Vai Oh bro Guarda che ce la fai Perfetto Vai 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 Lo bullizziamo Perfetto Oh vedi Qua sì Qua sì che posso Essere utile Non nella partita Di prima Che ho completamente Sbagliato Probabilmente Ok Tantissimi Tantissimi Danni Ma veramente Tanti Regà Vabbè sapete Che c'è Ho buttato Una ultima Eh dynamite Santo Dio Che spettacolo Qui Qui ha giocato Veramente Veramente Bene Veramente Bene Raro 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 Non è che ci facciamo niente Poi ho visto Nello scorso video Quale brawler Mi avete detto Di sbloccare State tranquilli L'ho visto L'ho visto Lo facciamo con calma Tra l'altro oggi Vi sto facendo Un video leggermente Più lungo Perché so che vi fanno piacere Io per esempio Non capisco sta roba Scegli brawler A me metà solamente Quattro brawler A me questa cosa Mi triggera Meno male Che mi da bea O li scegli il gioco I brawler Che tu puoi giocare Per una giornata E sta roba Regà Corpo che Mettendo a segno Un attacco Su un nemico Ricarichi Istantemente Alcuni colpi Forse perché Per sta roba qua Allora Regà Io sto cercando Di capire Ma non Non gliela faccio Vabbè Dai Questa è canina di mappa Ho visto che parecchi Ci hanno Eh sì Mi sembra che Gli opponenti Ci hanno sempre Una tipologia Di 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 Mamma Partiamo dal presupposto Che Prima o poi Lo capiremo No Ok Questo Ci è schiattato Questo Ci è schiattato Ne ho detto Faccio Faccio abbastanza Dan Aia Lui pure Ma mamma mia Quanto danno fa Ci può stare Lo Vai 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 Esatto Lui non poteva Fare più niente Pensavo ci fosse Una fk Invece no La fk Ha appena schiattato Male Eh sì Qua Ho voluto forse Un po' troppo Sperando che il mio Non muoia E invece è morto E invece è morto Ok quello L'abbiamo fatto Eh ragazzi Io ci sto provando Con tutto me stesso Forse sì Forse no Raga Guardate più di così Io non posso fare Però eh Cioè mettetevi In condizioni Di ritornare indietro E di scappare fortissimo Ragazzi Eh Dire che Io non ci abbia provato È stato veramente Purtroppo Stavano un po' troppo Davanti Non credo che loro Riescano In questo momento A fare double kill O triple kill O roba del genere In più c'è anche il treno Peccato Questa Un po' meroduto Eh Vi dico la verità Un pochettino Perché i nostri Dovevano un po' Scappicchiare Secondo me Dai mi manca Da pochissimo Ma fammi Fammi Digivolvere Per cortesia Comunque qua Va giocato con gli amici Raga Va giocato con gli amici Per forza Per forza di cose Ricercati è carino Eh ma tanto Devo giocare sempre Con gli stessi Per una motivazione O per un'altra Cioè se voglio Prendermi i block Ti serve un bro Almeno di livello 9 Per questo scontro L'ho scoperto Quindi stiamo parlando Che tu puoi fare Le classificate Almeno che tu abbia De brawler Di livello 9 E sicuramente Devi avere anche Un minimo Di brawler Di livello Probabilmente Eurega Secondo me Almeno 4 Almeno 3 Almeno 3 brawler Questo arcano segreto E' stato appena risolto Dal medesimo Sottoscritto Cishokamer89 Pazzesco Incredibile Ok Ah bro Mi prendi una Mi prendi due Mi prendite Mamma mia 36 di vita Mi sembra anche un po' Eh te pareva E' normale Ok Non è Bello Questo Mamma mia Che Che roba Raga Io sono Sopravvissuto Veramente Per il rotto Della cuffia Ma non capisco Perché i mei Stanno qui Ve lo posso Dire la verità Ragazzi Mi serve Una manina Io Eh ragazzi Questa La vedo di nuovo Molto grigia Quello con le cose Potrebbe fare Veramente I miracoli Raga Ottimo Ho fatto Una bellissima Kill No Questa Gliel'ho regalata Oh regà Ok Ma santo Piripillo Santo Piripillo Guarda Mi mancano Dei punti Per arrivare Al grado 500 Non so Al secondo grado Oh Me le sta Mettendo tutte Difficiline adesso Io penso di stare a fare Quello che posso Però regà Poi diventa un po' Difficile Ripeto Non sto dando colpa A nessuno Ma Figa Regà Sempre nel momento In cui devi Passare Dominio mi piace Ah Nuova stagione Non ho capito Nuova stagione Ah Perché è uscita La nuova stagione Non ho capito niente Io vorrei Vorrei tanto dirvi Ho capito Non ho capito Che cosa appena è successo Forse sono uscite Le nuove mappe Voi pensate che Ho capito Ah no Ricercati Quindi Nei ricercati Io posso utilizzare Semplicemente Questi quattro Perché C'ho questi quattro Praticamente Va bene Riuscirò A andare Quelli Regà Mi sto triggerando Non sto scherzando Però secondo me Qua Posso fare belle cose Loro Sono abbastanza Lui ci sarebbe bene Quello di Hesby Hotel Smurf Quella roba là Ecco Ecco Vedi Questa è la classica partita Che mi fa vincere Senza problemi D'altronde Ma che fai Te ne previ Mamma mia I danni Apocalittici Che ci siamo fatti Ci siamo spaccati Regà Quindi dopo un po' Si rompe la roba Carina così Mamma mia Quanto spara lontano Lui comunque Perfetto Ok lui mette L'overdrive Se non erro Che si chiama così Vai Schiattatelle Schiattatelle pure tu Ambe Ambe Oh bronzo 2 Buttalo via Sto bronzino 2 Ci piace Bronzino 2 Ci piace Ragazzi Io sono molto contento 100 blink Mi fico in testa 100 blink Vabbè Ci vediamo al prossimo appuntamento Guys Ciao belli